Buona giornata da Eleonora. Oggi sto facendo una lettura riguarda la situazione di una coppia appunto di cui devo valutare la situazione attuale. Io vi posso dire che in questa coppia ci sono state tantissime falsità, falsità che nascondono tradimenti. Quindi il tutto era coperto da una facciata. La facciata era appunto la bella apparenza, l'apparenza di una famiglia felice, ma tutto questo come potete vedere era tutto una falsità. E qui abbiamo la torre, ed è ciò che realmente è successo. Perché i dubbi c'erano riguardo questa coppia che si stesse lasciando, perché comunque è cambiato tutto in quella relazione. E ho la conferma, sia da questa stenza che da un'altra precedente svolta su un altro mazzo, in quel caso erano Rider-White. E come potete vedere, le Normand, anche in questo caso, dicono la verità. Questa coppia si è divisa in seguito a falsità dette probabilmente da lui. Lei è stata, come dire, raggirata e la famiglia di lei era tutto all'oscuro di ciò che faceva lui, perché lui molto probabilmente ha dei giri loschi. e quello che abbiamo è la torre, ossia la fine di questa relazione. E da quello che io so, adesso che ci sono state le feste di Yule, che per loro è il Natale cristiano, io non sono cristiana, io sono pagana, quindi non festeggio Natale, ma appunto Yule. Io vi posso dire che quei giorni mi è stato detto che non c'era nessuno in casa e tutto mi viene confermato da questa stesa. E quindi questa relazione io posso considerarla terminata. Farò altre stesure, ma questo è quanto.